La mutilazione dei genitali femminili consiste nell'asportazione di una o più parti della vagina di una donna. Si dice donna ma in realtà può anche essere una ragazzina, quindi minorenne, oppure anche una bambina. Esistono quattro tipi diversi di mutilazione dei genitali femminili e principalmente si diversificano proprio sulla base di quale parte viene asportata. Può essere asportato soltanto il clitoride, oppure il clitoride e le piccole labbra, oppure si può asportare tutto il clitoride e le piccole labbra e cucire insieme le grandi labbra. Dal punto di vista medico è stato più volte dimostrato e ampiamente ripetuto che questa pratica non ha nessun senso, non ha nessun beneficio, anzi comporta tantissimi rischi di salute per la donna. Innanzitutto si registrano problemi a urinare, problemi con le mestruazioni, problemi con la gravidanza e il parto, disfunzioni vaginali, problemi psicologici. La donna può anche morire e sicuramente avrà una perdita della possibilità di sentire il piacere sessuale per sempre, definitiva. I dati nel mondo sono questi. Innanzitutto si stima che circa 200 milioni di donne abbiano già subito la mutilazione dei genitali femminili e siano sopravvissute. Un'altra stima dice che circa 3 milioni di donne ogni anno sono a rischio oppure subiscono la mutilazione dei genitali femminili. Questa mutilazione può includere, come dicevo prima, anche bambine e ragazze minorenni. In Europa i dati sono questi. In Germania abbiamo circa 25 mila casi di ragazze già mutilate. In Francia 53 mila, in Inghilterra 137 mila e poi ci sono gli Stati Uniti che hanno fatto un calcolo diverso con un metodo diverso. Quindi gli Stati Uniti affermano che ci sono 513 mila donne o che hanno già subito la mutilazione dei genitali femminili oppure che sono a rischio di subirla. Questo sulla base dei dati demografici. Hanno applicato un altro metodo negli Stati Uniti. Allora facciamo un salto veloce nel Corano per capire se ci sia qualcosa. No, il Corano non parla assolutamente di mutilazione dei genitali femminili. Il Corano parla di un concetto che si chiama Fitra nel versetto 30, il capitolo 30. La Fitra è praticamente, secondo l'Islam, uno stato di purezza primordiale. Tant'è che Allah dice rivolgetevi alla pura religione monoteista, che è la natura originaria di Allah, che assolutamente non va cambiata e non va mutata. Purtroppo il Corano non ci spiega però che cosa sia questa Fitra. Quindi gli studiosi islamici sono ricorsi alla lettura degli Adit nella Sunna per capire appunto che cosa fosse questa Fitra. Ed è stato trovato ad esempio questo Adit. La Fitra si compone di cinque cose che sono la circoncisione, radersi peli pubici, le ascelle, i baffi, tagliarsi le unghie. Comunque quello che interessa a noi è la circoncisione. E purtroppo con questa parola in arabo, che è kitan, iniziano molti problemi. Perché la circoncisione, per come la chiama la Sunna, si applica sia alle donne che agli uomini. Sappiamo tutti che la circoncisione su un uomo non è una mutilazione, mentre sulla donna quella che la Sunna chiama circoncisione è una mutilazione a tutti gli effetti. Esistono anche delle conferme del fatto che questa kitan, questa circoncisione, viene applicata anche alle donne. Ad esempio in questo Adit. Una donna praticava la circoncisione a Medina, ma ometto le disse non tagliare troppo, è meglio per la donna e la rende più desiderabile al marito. Gli Adit, in cui compare questa circoncisione, questa kitan, applicata, praticata anche sulle donne, si ripetono poi anche in altri momenti della Sunna. Ed è per questo motivo che il testo che fonda la Sharia parte, come sappiamo, dal Corano e dagli Adit e a un certo punto parla di questa circoncisione. Il testo che io adesso sto menzionando è sempre lo stesso, si chiama Reliance of the Traveler ed è il testo su cui poi alcune scuole di Sharia divergono per un 20-30% dei contenuti, ma per circa il 70-80% dei contenuti sono tutti d'accordo. Questo testo dice appunto che la circoncisione è obbligatoria per l'uomo e consiste nell'asportazione del prepuzio del pene ed è obbligatoria anche per la donna e consiste nell'asportazione del prepuzio del clitoride e non di tutto il clitoride. Poi specifica che gli Ambali, un'altra scuola di Sharia, considerano la circoncisione non obbligatoria ma comunque una buona consuetudine e gli Anafi la considerano una mera cortesia nei confronti del marito. Dunque ci sarebbe qualcosa da dire sull'asportazione solo del prepuzio del clitoride e non del clitoride stesso. Primo perché si arriva direttamente all'infibulazione della vagina totale, secondo perché vorrei capire, scusate l'esempio se può essere un po' volgare, ma o in Somalia nei villaggi hanno un laser per farla oppure come fai ad asportare il prepuzio di una bicchia. Scusate. Per questo motivo ho preparato quindi questa mappa delle scuole di Sharia. Allora, innanzitutto non per farvi venire il mal di testa, ma per essere pronti a rispondere se dovesse capitare un dibattito in cui qualcuno, perché c'è sempre qualcuno che dice che la mutilazione non c'entra niente con l'Islam. Allora, come vedete in questa cartina, la parte che interessa a noi è quella blu scuro. Dunque, scarterei con un colpo di spugna tutti gli sciiti, perché fondamentalmente la considerano sì raccomandata, ma praticamente abolita, nel senso che non l'hanno più insegnata, non l'hanno portata avanti, e quindi tralasciamo completamente gli sciiti. Poi, dei sunniti, ovviamente la scuola shafi, che vedete in blu scuro, sono quelli che considerano la circoncisione obbligatoria, cioè la devi fare, punto. Poi ci sono delle variazioni. Allora, i malichi e gli ambali sostengono che sì, sia raccomandata, ma non è obbligatoria. E poi ci sono gli anafi, quelli in verde chiaro, che sì, sostengono anche loro che è sunna, però non la insegnano, non la tramandano. Fondamentalmente tutti gli altri sunniti, tranne gli shafi, come già hanno fatto gli sciiti, la stanno lentamente, non abolendo, però non la praticano più e non la insegnano, non la tramandano, anche questo è molto importante. In sostanza, la risposta esatta è la mutilazione è una pratica islamica? Sì, è praticata soltanto dalla scuola di sharia che si chiama shafi, che, come avete visto, nella cartina comprende l'Indonesia e la Malesia, dove, ad esempio, i dati sono che l'87% delle ragazzine è stata mutilata. E, tra l'altro, non ho capito, ma il restante 10% si sono gettate in acqua, cioè, perché solo 87%, boh, non ho capito. Comunque, quindi abbiamo detto questa parte qui, Indonesia, Malesia, e poi Etiopia, Eritrea, Somalia, Mozambico, una parte del Kenya, Djibouti e una parte dell'Egitto. Ok, ed è con l'Egitto che mi ricollego a una delle principali obiezioni, perché spesso la più probabile che si possa trovare è questa. La mutilazione è una pratica tradizionale, ma non c'entra niente con l'Islam. No, è una pratica tradizionale islamica che è oggi praticata soltanto dalla scuola di Sharia, che si chiama Shafi, punto. Poi viene detto che non tutti i musulmani la praticano. Sì, va bene, l'affermazione è corretta, ma non vuol dire che qualcuno non la pratichi sulla base della Sharia Shafi, dell'Islam. E poi, per quanto riguarda i cristiani copti, ad esempio dell'Egitto, quindi, viene detto che anche i copti la fanno, e che quindi, sulla base di questo ragionamento, la mutilazione non è un problema islamico. Ovviamente io dissento su questo, perché innanzitutto l'Egitto ha reso illegale, ha stabilito che è illegale la mutilazione nel 2008, e tuttavia nel 2016 hanno raccolto dei dati e risultava che l'87% delle ragazzine l'aveva già subita. Quindi, oltre, cioè, benvenga che sia stato detto che è illegale, però non viene fatto poi molto per andare contro la Sharia, perché è quasi impossibile. Una cosa, e anzi, è impossibile. Una cosa simile l'avevamo già vista per quanto riguardava un delitto d'onore, di cui avevo parlato in un altro video, di una ragazza decapitata in Iran, che era stata data in sposa quando aveva circa dieci anni. Né la Costituzione iraniana prevede che tu possa dare in sposa a tua figlia dopo i tredici anni di età, però la Sharia no. E quindi se tu vai anche al tribunale dove vige effettivamente questa legge, non puoi fare ricorso. Comunque, perché è sempre una trappola la Sharia, non c'è modo di sovrastarla, e la legge di Allah è sempre superiore alle leggi umane. Ma tornando ai copti, cosa succede? Che innanzitutto, in questo momento, la mutilazione non è praticata, e il Cairo dai dottori, ma può essere praticata, ad esempio, nei piccoli villaggi, in zone molto più rurali, molto più periferiche, e in una comunità dove ci sono cento famiglie e solo una famiglia, si tratta di cristiani copti, quando vengono organizzate le mutilazioni dei genitali femminili, anche la famiglia cristiana copta partecipa, e fondamentalmente porta la figlia, la ragazzina, a fare la mutilazione. Ma questo non vuol dire che non sia un problema islamico, questo significa che qui di problemi islamici ne abbiamo due. Uno è la mutilazione in sé, e l'altro è lo status di dimmi, che come avevamo già visto è un miscredente, spesso un cristiano, che accetta volontariamente la Sharia, perché teme che ci siano altre ripercussioni, altre forme di persecuzione, oppure altra violenza. Immaginate un villaggio nell'Egitto sperduto, dove tutte le ragazzine sono state mutilate, tranne una. Che cosa succederà, secondo voi, a quella ragazzina lì? Quindi è ovvio che anche i cristiani copti cedono a questo. Ovviamente sappiamo che non fa parte del cristianesimo, e in nessun ordine del cristianesimo, la mutilazione dei genitali femminili. Quindi non solo è islamico, ma comporta anche un secondo problema islamico, che è quello del dimmi. E poi viene anche detto, ogni tanto la fanno anche alcune comunità tribali, ad esempio in Colombia. Sì, saranno comunità pre-ispani, che avevo segnato qui. Sì, non c'è nessun dubbio che possa farlo anche un'altra tribù. Però questo non vuol dire che allora non sia islamico, il fatto che lo facciano delle comunità islamiche. E questo ragionamento è talmente banale, che secondo me a volte induce davvero l'occidentale medio nella confusione. E tant'è che non sta in piedi, e non viene mai fatto il procedimento logico al contrario. Cioè, mi spiego meglio. E questa cosa i musulmani la fanno molto spesso, quindi se volete memorizzarla, è proprio una cosa che fanno sempre. La carne di maiale nell'ebraismo è vietata. Il fatto che gli ebrei non mangino la carne di maiale, cosa significa? Che il divieto di mangiare carne di maiale dei musulmani non sia islamico? Ovviamente non è così. Oppure nessuna persona potrebbe mai osservare degli astemi e dire, ah sì, sono astemi, quindi i musulmani che si astengono dall'alcol non è una pratica islamica. Non ha nessun senso. Che lo facciano anche in Colombia. E poi ho letto un articolo che riguarda delle tribù del Perù. Io non ho nessun problema a riconoscerlo. Non è quello il punto. Il punto è che una cosa è islamica lo stesso, anche se la fa qualcun altro. Se no, cioè, se oggi tutti i buddisti pregano cinque volte al giorno, cosa vuol dire? Che le cinque preghiere al giorno dell'islam non sono islamiche? È ovvio che lo sono. Una conferma del fatto che è islamico, questo è un po' suddolo da parte mia, però ci tenevo lo stesso a menzionarlo, è appunto il fatto che una pratica così oscena spesso faccia scaturire lo status di dimmi. Ad esempio, nella città di Detroit, poco tempo fa, venne arrestata una dottoressa che aveva già praticato la mutilazione dei genitali femminili già su alcune ragazze tutte minorenni. Dopo che è stata arrestata, questa dottoressa ha iniziato, come sempre, a giocare la carta dell'offesa, ha coinvolto tutta la sua comunità, avrebbero dovuto arrestarla, chiuderla e sbatterla in prigione perché è illegale, ma cos'è successo? Che una volta che tutta la comunità è stata coinvolta, le istituzioni, le autorità, i giudici statunitensi non si sono trovati davanti una persona e questo lo fanno sempre quando vogliono la sciaria, ma si sono trovati davanti una comunità intera, una massa intera che gridava al vittimismo, che è la seconda carta che giocano. L'America ci perseguita, non è accettabile che io non possa praticare la mia religione. E com'è finita secondo voi? Ha vinto la legge degli Stati Uniti o la sciaria? Ha vinto la sciaria. La dottoressa, mentre io registro questo video, sta lavorando a Detroit. È un caso conclamato anche questo di Dimmi, che io torno a dire umanamente lo capisco, però purtroppo non ha delle conseguenze positive. È chiaro che nessuno vuole l'ospedale bombardato, un pazzo che arriva ti accoltella, però non è un buon segno. Un'altra cosa molto strana che volevo far notare è che ad esempio i dati che io ho preso anche da questo sito che si chiama Orchid Project, sono dati realistici, tant'è che coincidono con quelli di tutti gli altri siti che ho consultato, e a un certo punto però le persone che gestiscono il sito ci tenevano tantissimo a dire che la mutilazione dei genitali femminili, che è l'oggetto del loro mestiere, ovvero combattere questa pratica, a un certo punto ci tengono a dire che non sia una pratica islamica, non solo, ma che la Sharia, la legge islamica, difende i diritti dei bambini. Ok. Chi gliela manda una mail? Nel senso che io non voglio neanche sembrare così arrogante da dire adesso insegniamo il lavoro agli altri, non è questo, però i diritti... Ma bambini quali, secondo la Sharia? Quelli che posso uccidere, giustificando il delitto d'onore, perché come avevamo visto non c'è nessuna punizione per i genitori che uccidono i figli, oppure gli apostati, oppure i gay sono quelli che posso buttare giù dal tetto più alto della città, oppure giù da una montagna, la Sharia dice questo. Oppure quali bambini? Quelli che posso dare ad esempio in sposa ad una persona di 50 o 60 anni, non c'è l'età minima per il matrimonio, secondo la Sharia. Quindi di quali bambini parla questo sito? Non lo sapremo mai. Sono tutti casi o di confusione o di dimmi. Per riassumere, la risposta esatta è questa. Sì, la mutilazione dei genitali femminili, a prescindere che venga praticata anche su Marte, su Saturno, in Colombia, in Peru, è sancita dalla Sharia ed è oggi applicata soltanto da una scuola di Sharia che si chiama Shafi, che è quella blu scuro della mappa che avete visto. Fine. Ho registrato... Ah, sì, che spavento! Non vedevo il pallino che girava. Credo di dover tornare presso per un video su Gesù nel Corano solo con una premessa. Io ho sviluppato un nuovo disturbo, dovrò farmi vedere perché sono una sviata e io non ce la faccio. Nel senso che mi viene troppo da ridare... Ho degli attacchi di ridarella. Io ho preparato tutto ossessivamente, tutti i versetti, cos'è Gesù, la crocifissione, un macello dietro l'altro. Però appunto non riesco a farla. Io non voglio farla che sembra che voglio prendere in giro, non è quello, ma non riesco a stare seria perché non ha nessun senso. Anzi, ho anche scoperto utilissimi tafsir e ce n'è uno in cui Gesù esce, fa un buco nel tetto e vola. Insomma, non voglio farla dove rido come una scema da sola, quindi troveremo una soluzione. Comunque ci vediamo presto. Grazie mille, ciao!